non c'è l'ho ancora finito qua dove sei? io non ti vedo nemmeno ah fischia sei lontano guarda campo da calcio vicino al campo da calcio c'è una cabina indicata per cambiarsi io mi sono travescito da caniozza è morto dov'è? è lì dentro? è morto vado di sotto vai a vestiti da schegnotto tu vuoi questa? vuoi questa? vuoi andare? se ti vai a cambiare andiamo a prendere l'elicottero magari 0 0 è stato bravissimo assoluti dice niente no no stai facendo polemica chiaramente sono senza... che cosa? sono senza... sono senza... senza no 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 li devi andar vicino ma io sto cercando proiettili perchè sono senza proiettili cosa fa? nooo c'è un troppo burdello sono più quelli che sprechiamo di quelli che guadagniamo ah vabbè vediamo quanto manca la tempesta è ancora un po' facciamo pulito di quello che troviamo poi l'elicottero è sulla ah no si è vestiti da scagnotto e non ci riconosceranno mai ho ancora 0 colpi per il fucile da succhino incredibile io? no io no dov'è? prendiamo l'elicottero? se ne andiamo... ah è chiuso l'elicottero andiamo 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 ma ora non ciò che vediamo eh non è andata così... non è andata così male non è andata così male non c'è tanta gente tanto siamo già vestiti no però mi sa che siamo vestiti da quelli dell'altra squadra eh no vedi? diciamo no no siamo gli scagnosi dell'altra squadra vabbè tranqua facco il muro e ciao sto spaccando brutta eh però niente a boccettini eh niente andiamo a piotte andiamo alla prossima casa niente dobbiamo riprendere l'elicottero perché c'è un sacco di strada da fare ti vengo a prendere disco non non Dov'è? Lì? Ah, te la sono già fatta Eh sì, ma più che altro che non trovo il boccettino blu Dove sei? Dove stanno? Cato di volante, manco di vero E' attaccato? Uno ha attaccato Ah, 150 appena Ecco, lo là avrà 50 A meno che adesso non si stia curando Come ovvio che sia Dove sei? E' arrivato qualcun altro Aspetta un attimo Aspetta un attimo Oh, c'è i medici Vieni qua, dove va? Vieni qua, dove va? C'è gente C'è gente C'è gente, c'è gente Trovati Morti Oh, bisogna di recuperare E ritorno dentro Bene, tutto se vuoi Devo proprio recuperare Quanto siamo in 12? Quanto siamo in 12? Ah, va bene Va bene, va bene Io sono a caso da un'altra parte Ah Sono morto Sono in cima alla montagna E uno mi è saltato in testa col tuo trampolino Vabbè, giocatela Giocatela da solo Siete in nove Proprio sulla cima della montagna Ma quanti materiali che c'hai? Tanto leggo il bollettino 812 morti today Di mezzata la quota dei contagiati 1590 contagiati però Pochissimi Mai così pochi Oh, boss in set Stai giocando la grande Boss in set Maffa tutti Eh, niente cecchinello Vai, sparalo Spara il boss Vabbè, con quella Cioè, usa l'altro Abbo, boss Oh, dietro di te Dietro di te Grande, boss L'hai giocata a verona Ehi, qui Fondo che a bordo Vabbè Buona